Nonostante le rivalità dunque tutti i greci sentivano di appartenere a uno stesso gruppo, quindi sentivano di far parte di una grecità, ma questa grecità da che cosa è data? Da molti elementi, quindi da una storia comune, dalla lingua, dalla religione abbiamo visto, quindi dal sangue, dal senso di appartenenza a un unico gruppo distinto rispetto agli altri popoli. Ecco, uno di questi elementi, dicevo, che definiscono l'Ellade, quindi tutta la Grecia, quindi questa grecità è proprio la lingua e vedremo che tutti i dialetti che si parlavano nell'età pre-arcaica poi si fonderanno in un'unica coine. La coine è appunto una lingua comune che poi prenderà il sopravvento e si formerà grazie alla fusione di tutti gli altri dialetti, perché abbiamo già visto i tre grandi gruppi parlavano tre dialetti diversi, esistevano lo ionico, il dorico, l'eolico e l'arcadico cipriota, quindi in base alle grandi tribù, i dori, gli ioni, gli eoli, che poi nel corso del tempo però si fondono in una coine, cioè in una lingua comune. Questa coine è basata sul dialetto attico, quindi vedremo che a partire dal IV secolo a.C., grazie alle conquiste di Filippo e di Alessandro Magno, poi questa coine comune, quindi che ha per base il dialetto attico, si diffonderà in tutto l'impero conquistato da Alessandro Magno e piano piano si sostituirà a tutti gli altri dialetti, quindi si imporrà sulle altre lingue e verrà quindi riconosciuta come lingua ufficiale, quindi di base sarà il greco. Infatti il greco moderno si basa proprio su questa coine che nasce proprio nel IV secolo a.C. Dunque ha una storia antichissima naturalmente ed è importante perché anche questo permetteva ad un greco di distinguere se stesso da tutti gli altri gruppi, cioè dai famosi barbari, quelli che balbettavano la loro lingua. Un altro elemento fondamentale, quindi di distinzione dagli altri, quindi che fa parte sempre della grecità, era proprio la religione, cioè il fatto di credere, di praticare gli stessi riti e soprattutto di andare a pregare negli stessi luoghi. Il luogo privilegiato era il santuario di cui parleremo proprio adesso, soprattutto i santuari quelli più famosi, pensiamo al santuario nell'isola di Delo oppure il santuario di Delfi, entrambi dedicati al dio Apollo. Un elemento comune a tutti i greci, quindi che li distingueva dagli altri popoli, è senz'altro la pratica di interrogare il dio, quindi tutto ciò che ha a che fare con la divinazione. Che cos'è la divinazione? Cioè proprio l'insieme di pratiche e diritti con cui l'umano entra in contatto con il divino, quindi per poterlo interrogare, per poter chiedere qualcosa, per rivolgersi a lui, bisognava contattare la divinità. Questa è proprio la divinazione, quindi l'arte dell'interrogare, poi sapere anche interpretare la risposta del dio naturalmente e questo avveniva in vari modi, in vari luoghi e soprattutto si possono chiedere tante cose, ad esempio veniva chiesto il futuro, quindi di predire l'esito per esempio di una guerra, ci si recava per chiedere la spiegazione di un fenomeno naturale, oppure si poteva anche rivolgersi al dio semplicemente per chiedere il permesso di un'azione, ad esempio per dichiarare guerra, oppure anche semplicemente di avere la benedizione per partire per un lungo viaggio. L'arte di sapere interpretare la risposta del dio, perché il dio risponde, ma l'uomo deve saperlo anche comprendere, questa arte era affidata dei sacerdoti, esperti naturalmente che sapevano poi captare, quindi interpretare le risposte attraverso per esempio il volo degli uccelli, attraverso l'interiora degli animali, oppure interpretando anche i sogni, addirittura in molti casi come il dio della medicina era solito apparire direttamente in sogno al paziente e al paziente cercava di indicare la cura, quindi per poter guarire dalla malattia, quindi ci sono vari modi per poter poi interrogare la divinità, però questo fatto quindi di rivolgersi al dio soprattutto attraverso il santuario è un elemento che contraddistingue i greci da tutti gli altri, il famoso elemento di grecità. Un altro elemento comune era quello di consultare l'oracolo, che cos'è l'oracolo? Ovviamente il tempio dedicato a una divinità dove si andava a chiedere il risponso al dio stesso, quindi si andava proprio a sentire il suo parere, attenzione perché per noi è poco rilevante, forse anche poco importante, ma per loro era di fondamentale importanza, era vitale conoscere il parere della divinità e nulla veniva fatto senza il suo consenso, attenzione, quindi influì per secoli la vita di milioni di persone in tutta l'area del Mediterraneo, anche in Asia minore, quindi non dobbiamo pensare che fosse una cosa così secondaria o di poco conto, la religione era un aspetto essenziale della vita quotidiana di tutti, nessun re avrebbe mai mosso guerra, avrebbe cercato di risolvere una pestilenza oppure di rispondere in un certo modo a un suo avversario senza aver prima posto la domanda al dio, nessuno sarebbe partito per fondare una colonia, quindi riguardava veramente tutte le sfere di tutti gli ambiti della società, della società umana, non bisogna assolutamente ecco pensare o fare l'errore che fosse una cosa di poco conto e ovviamente l'oracolo più importante era quello di Delphi, quindi tutti si recavano lì o in maniera individuale o attraverso una delegazione per chiedere le cose più disparate al dio e lì ricevevano la risposta attraverso la pizia, cioè questa sacerdotessa vergine che sedeva su un tripode d'oro e questo tripode era collocato nella parte più interna del santuario, quindi quella più remota e inaccessibile a tutti gli altri e di solito il tripode era collocato in un'apertura sulla terra, quindi sul pavimento da cui uscivano questi vapori, quindi c'era una sorta anche di contatto viscerale ecco con la terra e dal quale appunto provenivano questi vapori, la pizia entrava in trance e quello era il segno secondo i greci che il dio Apollo si fosse impossessato della sacerdotessa e in base alla risposta poi si comportavano di conseguenza. Alle feste pubbliche ovviamente partecipavano tutti e c'era tutta una serie anche lì di riti e di pratiche importanti, soprattutto quella di sacrificare degli animali alle divinità, poi sappiamo bene ne abbiamo ampia testimonianza sia dall'Iliade che dall'Odissea e da tutti gli altri miti che una volta sacrificato l'animale poi mentre i fumi, i vapori salivano al cielo per essere cosa gradita agli dèi che vivono sull'Olimpo, questa dimora appunto riservata soltanto agli dèi, questo monte che si trova appunto in tessaglia, dall'altro lato poi invece tutte le carni venivano consumate dai greci, quindi si mangiavano, quindi si consumava il famoso pasto e quindi il rito pubblico vedete coinvolge sempre tutta la comunità perché è formato di varie pratiche, poi ci sono rappresentazioni teatrali, potevano esserci gare di canto, gare di atletica, però ecco attenzione c'è anche una religione privata, esiste, non è da sottovalutare neanche questa, era la famosa religione misterica, quindi un rapporto più individualizzato, quindi tra il singolo individuo e la divinità, però non appartiene quindi alla sfera pubblica che era sicuramente la religione più importante, ma esisteva anche quindi una sorta di pratica privata, spesso praticata in luoghi isolati o comunque nascosti, ed è appunto la religione misterica, misterica viene da mistai che significa semplicemente iniziati, quindi la religione misterica riguarda la religione degli iniziati, cioè di coloro che sono ammessi a questo culto e attenzione perché non c'è niente di misterioso, nonostante il termine, non dobbiamo farci trarre in inganno, perché in realtà a questi misteri, cioè a questa religione, potevano essere iniziati tutti, cioè tutti coloro che ne avessero avuto il desiderio, quindi anche gli stranieri e soprattutto schiavi e donne, quindi interessante notare come la religione fosse un elemento che veramente accomunasse tutti e da cui nessuno poteva essere quindi escluso. Queste cerimonie notturne, queste pratiche dunque venivano ecco svolte nel segreto, quindi l'iniziato doveva mantenere il più assoluto riservo, non doveva rivelarlo a nessuno e soprattutto erano pratiche e riti particolari in occasione sempre di feste e di altre divinità, pensiamo a Dioniso, pensiamo a tantissime feste che venivano appunto celebrate nel corso dell'anno.